Oroscopo del giorno. Mercoledì, 30 maggio, 2018. Ariete. Amore. Lavoro. Toro. Amore, il rapporto con il partner potrebbe inclinarsi e potrebbe avere una battuta dal resto a causa di un malinteso. Cercate di chiarire tutto adesso, dopo potrebbe essere troppo tardi. I single avranno tanta voglia di vivere le loro passioni senza pensarci troppo. Lavoro, qualche imprevisto con i collaboratori vi metterà di malumore. Non abbiate fretta di concludere un progetto, cè tempo per decidere. Gemelli. Amore, se avete deciso di chiarirvi col partner a cuore aperto non aspettatevi subito la pace. Spiegate comunque le vostre ragioni per mettere un punto fermo alle discussioni. I single saranno un po confusi ed è meglio fare una pausa invece di cercare nuove amicizie. Lavoro, siete ad un passo da raggiungere i vostri traguardi. Proponete le vostre iniziative, sorprenderete tutti. Cancro. Amore, chi è in coppia oggi potrà contare sullinflusso di venere per trasformare il proprio rapporto. Badate, però, qualcuno potrebbe fare un colpo di testa. I single si lanceranno alla conquista di persone libere da legami, pronte a vivere una storia alla luce del sole. Lavoro, belle novità in campo professionale, un piccolo spiraglio potrebbe farvi vedere un barlume di speranza per il futuro. Leone. Amore, momento importante per le coppie che hanno deciso di consolidare un rapporto. Oggi scambierete promesse con la persona amata, siete davvero pronti per pensare al domani. Se siete single, sarete molto desiderati e corteggiati. Tante le richieste damicizia. Lavoro, arriveranno tante soddisfazioni che saranno di buon auspicio per nuove ulteriori sfide. Virgine. Amore, qualche polemica eccessiva renderà difficile oggi il rapporto con il partner. In serata tornerà larmonia e tornerà il desiderio e la passione che spazzerà via ogni incompressione. I single saranno delusi da un incontro che si è rivelato negativo. Prendetevi una pausa. Lavoro, le prospettive per fare affari sono buone e potrete concludere importanti trattative. Confrontatevi con i colleghi prima di agire. Bilancia. Amore, sarete un po' confusi per via degli impegni che si sono praticamente moltiplicati. Questo vi porterà a trascurare il partner, ma voi cercate di recuperate, ritagliatevi i vostri spazi. I single potranno essere presi da molte incertezze, nulla di definitivo in amore. Lavoro, portate avanti con tenacia le vostre idee e non perdete di vista gli obiettivi. Fidatevi di più delle vostre capacità. Scorpione. Amore, oggi vi sentirete messi da parte ma per fortuna farete finta di niente. Sfruttate tutte le occasioni per riconquistare il partner, le stelle sono a vostro favore. I single saranno molto intriganti e potranno fare conoscenze molto interessanti. Lavoro, ottima giornata per fare affari e incontrare persone che possono aiutarvi a salire di grado. Valutate bene tutte le offerte. Sagittario. Amore, evitate di essere troppo gelosi, creerete scompiglio se siete in coppia. Cercate invece di conquistare la fiducia del partner e appianate i discorsi. I cuori solitari sono ancora alla ricerca dellanima gemella ma oggi ci saranno poche occasioni per trovarla. Lavoro, un progetto che avete iniziato ha bisogno di un maggiore supporto. Siate coraggiosi e credete in quello che fate. Capricorno. Amore, siate prudenti se avete un segreto da nascondere. In amore non mancheranno i litigi per via di un tradimento, ma pensateci bene prima di porre fine alla vostra storia. Per i single si prospetta una giornata ricca di incontri, per molti potrebbe arrivare una nuova relazione. Lavoro, buone prospettive per prendere nuove strade, ma state attenti a non scegliere quella meno opportuna. Acquario. Amore, provate a dedicare più tempo alla persona amata se non volete farla allontanare. Manifestate le vostre emozioni e fatevi avanti se avete intenzione di creare un progetto importante. I single dovranno fare attenzione ad alcune persone molto pettevole. Lavoro, sarete pieni di inventiva e questo porterà tanti vantaggi sul lavoro. La vostra intraprendenza colpirà nel segno. Amore, oggi dovrete adattarvi ad una nuova situazione amorosa. Ricordate che a volte la scelta migliore è assecondare le scelte del partner. I single vivranno momenti di intensa positività con gli amici più cari e con i familiari più stretti. Amore, lavorate. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.